Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi continuo a parlarvi di file GIF perché ho comunque riscontrato un certo interesse per quanto riguarda l'argomento. Parliamo un attimino del tipo di file con cui ci troviamo ad avere a che fare. Si tratta di un'immagine fondamentalmente che però ha una caratteristica, è un tipo di file che permette di incapsulare più di un'immagine, quindi possiamo avere una singola immagine oppure una serie di immagini. Questo ovviamente ci consente di creare delle animazioni. Se avete visto delle brevi immagini in movimento, spesso e volentieri a loop come possono essere gli sticker di Instagram, piuttosto che le GIF che ci scambiamo sovente nelle chat e nei commenti dei vari social network, stavate sicuramente guardando dei file GIF, delle GIF che erano state probabilmente create o incapsulate su qualche piattaforma per essere poi condivise sul social media su cui le abbiamo viste e fruite. Oggi voglio farvi vedere dei tipi diversi di lavorazione. Vedremo infatti come si creano dei meme in formato GIF, quindi delle immagini divertenti, carine, che possiamo prendere da internet e scriverci sopra la frase che vogliamo per fare la nostra battuta spiritosa o anche per carità la nostra azione di branding se siamo un brand e andremo a vedere come si possono esportare o convertire in modo molto semplice con delle piattaforme online che sono completamente gratuite, almeno al momento in cui esce questo video sono completamente gratuite, hanno poi ovviamente delle sezioni a pagamento, ma noi utilizzeremo solo le funzioni gratuite che sono assolutamente sufficienti per tutto quello che vi farò vedere oggi. Dobbiamo sempre ricordarci una cosa, si tratta di file che non nascono per mostrare immagini in alta risoluzione, quindi nonostante sia un formato che ha una caduta qualitativa relativamente bassa, il semplice fatto di esportare come GIF significa che stiamo riducendo significativamente la palette di colori e questo lo rende molto adatto per l'utilizzo sticker se vogliamo, che deve essere una cosa piccola e molto immediata ma che non deve pesare tanto, lo rende molto poco adatto per cose dove la qualità si rende necessaria invece, quindi per esempio questo è un formato che potremmo utilizzare se vogliamo realizzare dei banner, io lo uso molto spesso per realizzare dei banner che devono girare su dei siti web, quindi banner piccolini che pesano poco invece di mettere la singola immagine che peserebbe 500 kb, mettiamo una GIF magari con due immagini che pesa 800 kb, quindi ha un peso che rimane accettabile però al cliente dà molto in più perché invece di avere un'immagine statica abbiamo un'animazione che quindi si muove e potenzialmente richiama di più l'attenzione, gli utilizzi in realtà sono disparati, quelli che vengono in mente a me in questo momento sono sicuramente per gli sticker, per i vari social e sicuramente per i banner, per i siti web, possono anche essere utilizzate semplicemente come messaggino simpatico o come commento, noi andiamo a vedere come si possono realizzare, dopodiché starà a voi trovare l'utilizzo migliore per questo tipo di file e anzi vi invito a lasciarmi iscritto nei commenti se avete trovato utile questo video e soprattutto per cosa avete utilizzato le vostre GIF. Molto bene, cominciamo a vedere il primo metodo, ci troviamo sul sito canva.com, si tratta di una piattaforma che è vero ha una parte a pagamento ma consente di fare molte molte cose anche con l'opzione gratuita, come potete vedere è possibile eseguire l'accesso semplicemente con una gmail, quindi se avete un account gmail è possibile entrare all'interno dell'applicativo semplicemente facendo entra con google. Ci ritroviamo nella nostra schermata principale, quello che andiamo a fare è creare un design, per comodità lo creerò con le stesse proporzioni di un post di instagram, è solamente per fini dimostrativi, ovviamente potete crearlo con le proporzioni che preferite. Ora canva è un software online molto intuitivo che permette di creare dei file grafici nel senso più generico del termine, quindi noi possiamo importare del testo per esempio, possiamo scrivere quello che vogliamo, quindi questo potrebbe essere il mio testo, dopodiché io potrei adattarlo al mio formato. Come vedete è molto intuitivo e ha delle guide calamitate proprio come su Illustrator e Photoshop che ci permettono di lavorare in tutta tranquillità, perché sappiamo sempre se stiamo allineando correttamente il nostro file. Se l'abbiamo spostato e non vogliamo fare fatica possiamo anche posizionarlo in questo modo così siamo sicuri che sia centrato. Il presupposto di una GIF è che deve essere animata, deve esserci qualcosa che si muove, se no non avrebbe senso, per cui qui possiamo andare ad animare il nostro testo. Abbiamo tutta una serie di animazioni che ci permettono di far fare cose diverse al nostro testo. Ora per amore della GIF io credo che andrei a selezionare qualcosa di questo tipo dove c'è un po' più di movimento perché altrimenti se gli diamo una cosa di questo tipo sono veramente tre slide, l'animazione finisce subito. Invece se andiamo a fare una cosa di questo tipo, insomma qualcosa dove c'è un po' più di movimento, la nostra animazione oltre a essere un pochettino più elaborata dura di più e quindi si presta di più al formato che stiamo utilizzando. Io credo che potrei andare semplicemente con questa animazione. Ora qui ci sono delle opzioni che però come vedete posso utilizzare solo se ho l'account premium, quindi in questo caso io non ve le farò vedere. Andrò però a selezionare entrambe su entrata e uscita, in questo modo la mia GIF avrà un ingresso e un'uscita. Proviamo ad andare a vedere se funziona, la mandiamo in play e vediamo che la mia GIF entra e la mia GIF esce. Quindi questa in realtà non è ancora una GIF perché è semplicemente un formato grafico all'interno di Canva. Come facciamo a trasformare questo file in una GIF? È semplicissimo, andiamo su condividi, una volta si chiamava download. Adesso l'hanno chiamato condividi perché c'è la possibilità di condividere direttamente sui social media, ma a noi interessa scaricare quello che abbiamo creato. Per cui andiamo su download e qui non dobbiamo fare altro che selezionare GIF come formato finale. A questo punto premiamo il tasto download e vediamo che il nostro file sta effettivamente venendo scaricato sulla nostra macchina, sul computer che stiamo utilizzando o sul cellulare che stiamo utilizzando perché Canva funziona anche con l'applicazione mobile. Quindi vedete che in pochissimo tempo abbiamo creato una GIF che siamo in grado poi di riutilizzare su molte piattaforme perché come dicevamo prima le GIF hanno la caratteristica di essere molto adattabili a tutte le varie piattaforme su cui le andiamo a utilizzare. Quindi utilizzano una compressione che gli permette di mantenere una qualità tutto sommato decente anche se sono molto più adatte per file grafici di questo tipo piuttosto che per foto e video e comunque sono riconosciute dalla maggior parte dei dispositivi dalla maggior parte delle piattaforme. Quindi questo è l'indubbio vantaggio. Vediamo che nel momento in cui andiamo a cercare il nostro file lo troviamo nella cartella dove facciamo tutti i nostri download. Eccola qui. Nel momento in cui io la vado ad aprire vedete che è stata correttamente scaricata e quindi abbiamo il nostro file che a loop perché le GIF tendenzialmente vanno a loop ci ripropone il nostro file grafico in un formato che dovrebbe essere assolutamente leggero e gestibile. Infatti qui se andiamo a vedere pesa 913 KB quindi pesa praticamente un mega. Si tratta di un'animazione in formato post di Instagram quindi è un'animazione che dura 5 secondi. Siamo riusciti a stare in un mega con 5 secondi quindi è un file che pesa abbastanza poco da essere incapsulato con successo su un sito web. Lo si può utilizzare come post social e può trovare un sacco di altre applicazioni. Ovviamente dipende da quanto siamo stati bravi e volenterosi nell'elaborare il nostro formato. Ma ora andiamo a vedere com'è possibile creare qualcosa di un pochino più avanzato. Ho già importato delle immagini qui all'interno degli uploads, le risorse che ci carichiamo noi da soli all'interno di Canva quindi quello che siamo in grado di utilizzare preso da internet. Non risorse a pagamento perché per questo ci vorrebbe l'account premium a pagamento ma risorse che abbiamo già. Per cui andiamo a prendere una risorsa e la portiamo all'interno. Vedete che se la portiamo in centro ce la posiziona manualmente mentre se la mettiamo sui bordi ce la mette già a dimensione piena che è quello che vogliamo in questo caso. Dal momento che stiamo parlando di una gif quindi un'animazione io gli vado a mettere l'animazione breathe che gli darà questo effetto zoom che secondo me è uno dei più carini che si possono utilizzare all'interno di questo applicativo. Successivamente andiamo a selezionare un testo. Adesso andiamo a scegliere un fonte che sia un pochettino meno formale di questo visto il tipo di grafica che stiamo andando a realizzare. Vediamo che qui abbiamo tutta una serie di fonte che ci vengono messe a disposizione in maniera assolutamente gratuita. Questo qui potrebbe essere quello che fa per noi. Noi andiamo a selezionare il nostro testo e a questo punto siamo in grado di mettere un'animazione anche sul testo. In questo caso credo che questa potrebbe essere una cosa molto carina. Andiamo a spezzarlo su due righe. Ora ovviamente non si legge benissimo per cui andiamo su effetti e selezioniamo ombra. L'ombra in questo caso vedete è bianca quindi è una scelta per me incomprensibile quella di mettere il colore di default bianco. Gli andiamo a mettere nero invece. Adesso sì che si vede. Qui proprio come su photoshop o su altri applicativi che già conosciamo possiamo gestire la trasparenza e possiamo gestire la sfocatura di quest'ombra. Quindi io vado a ridargli i parametri che conosco già bene. 75% di photoshop e un 20% di sfocatura. La direzione diciamo che ci va bene così è abbastanza irrilevante. Offset giochiamo appena un pochino per renderlo più leggibile. Direzione magari potrei dargli quest'altra in maniera tale che lo porti un pochino fuori in queste aree. Perfetto. A questo punto andiamo a vedere che cosa è successo, com'è la nostra animazione finale. Ok vedete che quando arriva alla fine ripartirà da sola una volta che sarà esportata. Ora da quello che riesco a vedere posso ingrandirlo un po' questo testo che tanto rimane comunque in quella posizione. Andiamo ad agire sull'interlinea in maniera tale da avvicinare un pochettino la prima e la seconda riga così possiamo tirare tutto un pochettino più giù e andiamo a rivedere il risultato finale. Perfetto. Questa qui è la nostra prima GIF. Adesso andiamo a creare un'altra scheda, anzi andiamo a duplicare quella che abbiamo già così non dobbiamo ridirgli la maggior parte delle cose perché gli effetti vengono mantenuti. Su questa seconda andiamo a prendere un'altra immagine di sfondo quindi andiamo a prendere Spider-Man invece di Batman. Ok e in questo caso possiamo andare a cambiare font, possiamo andare a scegliere qualcos'altro e possiamo andare a cambiare anche il tipo di animazione. In questo caso la porto un pochino più su se no esce fuori durante lo svolgimento della sua animazione. Andiamo a vedere difettino di Canva volendo che quando facciamo play ci fa partire dalla prima e non possiamo scegliere quale vedere dobbiamo rivederle tutte e due. Però il risultato è questo e il concetto è che funziona. Ora nel momento in cui le vogliamo esportare c'è un piccolo trucchetto nel senso che dobbiamo selezionare GIF ovviamente ma in questo modo noi le stiamo esportando entrambe di seguito. Invece se noi vogliamo esportarne una sola come probabilmente succederà perché non le vorremmo esportare tutte e due di seguito dobbiamo selezionare la prima ed esportarla e così mandiamo in export la prima dopodiché dobbiamo selezionare la seconda. Quindi in questo caso selezioniamo solamente la seconda e nuovamente andiamo a esportarla. In questo modo esportiamo le nostre due tavole come due GIF separate e siamo in grado di utilizzare prima una e poi l'altra a seconda di quello che ci siamo prefissati. Andiamo a vedere che le nostre animazioni sono state scaricate correttamente quindi abbiamo la prima e la seconda. Adesso qui lagga un pochino perché sto guardando i file attraverso il quick view di macOS quindi ci mette un pochino a farle vedere però eccole qui le abbiamo scaricate tutte e due correttamente. Ora questo è quello che io consiglio di fare nel momento in cui vogliamo creare dei meme con una scritta però c'è anche la possibilità che vogliamo invece andare semplicemente a realizzare una GIF da un video che abbiamo già. In questo caso secondo me possiamo fare di meglio. Potremmo anche importare il video nelle risorse di Canva dopodiché trascinarlo qui dentro e poi esportarlo come GIF ma diventa lungo invece noi possiamo fare un'altra cosa. Possiamo andare su gifi.com che è un'altra piattaforma sostanzialmente gratuita nel senso che basta farsi l'account dopodiché ci permette di fare tutto quello che vogliamo al suo interno. Noi possiamo andare a caricare degli sticker oppure delle GIF semplici a partire da un filmato quindi può essere un'altra GIF, un MP4 oppure un MOV. Supponiamo di avere un MOV. Io non faccio altro che prendere il MOV e trascinarlo dentro nel comparto GIF. Come potete vedere qui possiamo trimmarlo per ritagliare la porzione che più ci interessa. Abbiamo un massimo di 30 secondi. Questo dura 9 secondi. Io lo vado a ridurre un pochino. Lo vado a tagliare di quasi la metà perché tanto è tutto uguale. È un video che può essere messo a loop che sostanzialmente si ripete. Prosegui con il caricamento. Ora nel momento in cui si carica una qualsiasi tipo di file su GIF viene sostanzialmente reso pubblico. Io non voglio rendere pubblico questo file perché è solamente per fini dimostrativi per farvelo vedere adesso. Quindi quello che gli andrò a dire è di renderlo privato e non andrò nemmeno a inserire parole chiave o sorgenti varie perché tanto lo cancellerò al termine di questa dimostrazione. Però mi serve per farvi vedere che è possibile caricarlo. Quindi ecco che viene caricato all'interno del motore di GIF. Una volta che è caricato noi sostanzialmente abbiamo la nostra GIF e a questo punto possiamo fare semplicemente tasto destro salva immagine come e quello che succede è che ci viene salvato sul nostro computer un file che nomineremo come vogliamo. Lo nominiamo come ci pare. A questo punto noi abbiamo il nostro file prova GIF. Se noi andiamo ad aprirlo ecco che vediamo la nostra GIF quindi la nostra animazione che a questo punto viene riprodotta in questo file che ha un formato che dovrebbe essere abbastanza leggero pesa 4 mega quindi in realtà non è leggerissimo però è abbastanza fruibile. Possiamo incapsularlo dove vogliamo e farci quello che vogliamo. Ovviamente un video pesa molto perché ci sono molti cambiamenti. Un meme con un'animazione probabilmente peserà di meno se c'è solo il testo che compare peserà un po' di più se c'è anche lo sfondo che si muove come in questo caso uno sfondo che si muove viene percepito quasi come un video e quindi andrà a influire sul peso. Bene come abbiamo visto come avete visto anche dalla dimostrazione ovviamente nel momento in cui noi andiamo a esportare una grafica avrà una resa di un certo tipo mentre nel momento in cui andiamo a esportare un video che abbiamo convertito la resa sarà qualitativamente inferiore perché stiamo parlando di un formato che non è stato pensato per avere una buona qualità non è stato pensato per file pesanti in alta qualità ma è stato pensato per file piccoli che devono girare velocemente essere letti da molte piattaforme diverse con molteplici device quindi il punto forte dei file gif è sicuramente la versatilità vengono comunque riconosciuti dalla stragrande maggioranza dei device che ci sono in commercio in questo momento vengono riconosciuti dalla stragrande maggioranza delle piattaforme quindi nel momento in cui creiamo delle gif sostanzialmente non abbiamo grossi problemi di compatibilità abbiamo talvolta dei problemi di qualità nel senso che se abbiamo fatto delle grafiche con pochi colori quindi per esempio un logo su sfondo nero su sfondo bianco non abbiamo problemi perché viene letto perfettamente nel momento in cui abbiamo delle fotografie o ancora peggio dei video vengono sostanzialmente rasterizzate con dei gradienti vedete per esempio le luci che sono sul mio volto ci sono dei gradienti che passano da una situazione a un'altra situazione non sono linee nette precise nel momento in cui abbiamo tanti colori e soprattutto dei gradienti la gif comincia a non essere più il formato migliore con cui possiamo lavorare infatti le varie gif che vedete in giro se sono se contengono frammenti di video avranno una qualità una risoluzione molto bassa tenderanno a sgranare molto facilmente mentre per quanto riguarda le grafiche pure quindi le scritte i loghi tendono a mantenere una qualità maggiore ovviamente maggiore è lo spessore del logo delle aste delle scritte del lettering su cui stiamo lavorando e migliore sarà la resa un logo molto sottile non si leggerà bene quanto un logo molto grosso molto massiccio quindi i loghi molto sottili quindi volendo anche quelli un po eleganti sono penalizzati da questo punto di vista mentre i loghi grossi con delle aste molto voluminose sono sicuramente avvantaggiati vediamo anche come è possibile realizzare una gif con noi stessi quindi io adesso quello che faccio vado a inquadrare me stesso molto rozzamente registro un video brevissimo e stupidissimo e con questo video brevissimo e stupidissimo adesso ci tuffiamo all'interno dello smartphone e vediamo come è possibile trasformare questo video in una gif senza sfondo per cui apriamo il nostro browser e quello che dobbiamo fare è digitare unscreen.com che è un sito che ho scoperto di recente su cui è possibile caricare la nostra clip quindi io vado a fare upload clip foto library e vado a selezionare il mio filmato stupidissimo dove c'è il mio faccione ok andiamo a caricarlo e vedete che automaticamente l'applicativo sta riconoscendo quello che era lo sfondo e quello che sono io ovviamente con delle imperfezioni non è perfetto a questo punto vedete che non è perfetta perché c'è un pezzo di sedia che mi compare dietro però se l'avessimo fatta bene se mi fossi messo su uno sfondo neutro senza senza la sedia dietro sarebbe venuta meglio ovviamente però questo strumento è abbastanza potente perché se ci mettiamo nelle condizioni di farlo bene se io mi fossi messo con dietro il muro bianco invece che con dietro il backdrop e con la sedia e col microfono se mi fossi messo semplicemente con dietro il muro bianco sarebbe venuta molto meglio di così a questo punto io posso andare giù e cliccare su download e vedete che sta facendo compositing e encoding a questo punto io mi ritrovo con il mio file che posso salvare sul mio telefono se vado ad aprire i miei file ecco che mi trovo vedete la mia gif con lo sfondo trasparente quindi questa è una gif che io posso utilizzare per esempio su instagram potrei copiarmi il file creare una storia di instagram e incollare la gif dentro in una storia se l'avessi fatto bene potrebbe avere senso perché potrebbe essere una cosa che mi rappresenta con la mia faccia quindi con con me stesso se ho se sono un influencer o se ho comunque un'attività posso incapsularla in questo modo nelle mie storie se ho un profilo instagram con un po di seguito posso anche andare a caricarla sulla piattaforma gifi.com ma questa volta non come privata come vedevamo negli esempi ma posso andare a caricarla pubblicamente e se ho un account brand o un account creator abilitato la mia gif verrà condivisa automaticamente negli sticker di instagram questo ovviamente è una feature disponibile solamente per gli account con un po di seguito gli account un po più grossi però se abbiamo un account con almeno 10.000 follower e un sito web perché richiede entrambe le cose la certificazione di gifi possiamo passare le nostre gif su instagram abbinandole a delle parole chiave quindi per esempio io cercherò una parola chiave che do io alla mia gif per richiamarla ogni volta che la voglio utilizzare nelle mie storie potrei fare la stessa cosa con dei meme potrei fare la stessa cosa con la maggior parte dei file che sono in grado di creare potrei condividerli in questo modo e averli sempre a disposizione all'interno della piattaforma se non ho un account abbastanza seguito posso semplicemente salvarmele sul cellulare e caricarle all'interno ogni volta bene detto questo io vi invito a lasciare un commento se avete trovato utile questo video lasciate anche un like se l'avete guardato fin qui perché a questo punto vuol dire che qualcosa di utile ce l'avrete pur trovato non dimenticate di iscrivervi a questo canale in modo da non perdere le prossime uscite e a me non resta altro da fare che darvi appuntamento al prossimo video